E' iniziato il conto alla rovescia in Abruzzo per le elezioni amministrative. Tra i centri più importanti dove si andrà alle urne nella nostra regione c'è sicuramente Roseto, dove sarà sfida aperta per il dopo di Girolamo. Non scenderà direttamente in campo Giulio Sottanelli, che appoggerà Mario Nunes all'insegna del civismo e oltre i partiti tradizionali. Sono un paio d'anni che stiamo lavorando su un progetto politico che abbiamo chiamato Spazio Civico, quindi volendo coinvolgere tutte le energie presenti nella comunità di Roseto degli Abruzzi all'interno di un progetto ben definito, sarei dire un piano industriale di rilancio della città di Roseto. All'interno di questo progetto civico c'è anche Azione, che è il partito di Calenda. Da due anni che stiamo lavorando l'abbiamo affinato come progetto, abbiamo diverse liste che sostengono la candidatura, molto probabilmente di Mario Nunes, ancora se non viene ufficializzata. Molte persone avrebbero gradita la mia discesa in campo come candidato sindaco. Oggettivamente e quotidianamente ricevo tante sollecitazioni, sia da tanti cittadini, da portatori di interessi, ma anche da altri partiti, quindi da altri dirigenti politici. Questo mi rende molto orgoglioso, però penso che le ambizioni personali, seppur legittime, debbano fare sempre un passo indietro rispetto a un progetto che vada esclusivamente il bene comune. Il vero civismo siamo noi, perché il candidato sindaco non ha mai avuto Mario Nunes, non ha mai avuto nessuna tessera politica. Tutti gli altri partiti sono tutte persone che non hanno militato in partiti. Infine il giudizio sulla giunta uscente, se non una bocciatura. Sicuramente, secondo Sottanelli, tante le cose da rivedere. Una gestione molto ordinaria, troppo ordinaria, nulla di nuovo, non ci sono stati progetti particolari, non si sono riusciti a completare altri progetti, penso ad esempio alla villa comunale, non si è fatto nulla sull'urbanistica, quindi un'amministrazione seduta in se stessa. Grazie a tutti.